Rientriamo dalla pubblicità dopo aver narrato l'esperienza formativa della scuola attraverso gli studenti e le maestre per introdurre come da prassi alle 17 il nostro personaggio. Il calcio è immerso nella vita, ne è parte stessa, è una delle tante attività umane e immaginarlo isolato dal contesto sociale, politico ed economico è pura illusione. Il calcio è una sorta di carta assorbente che si impregna di tutto ciò di cui è impregnata a sua volta la società, ma ha un obbligo etico imprescindibile, deve promuovere valori, non può rinunciarvi senza pagare il prezzo di smarrire. La sua stessa identità. Un altro calcio è ancora possibile, Riccardo Cucchi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Un saluto ai telespettatori. Un saluto a te, non nascondo un filo di emozione seppur ben celata dal trucco e dalle telecamere, però a tutti gli effetti questo è un libro che racconta il senso di un calcio che si sta un po' smarrendo, quel calcio che va sempre di più verso i petrol dollari, verso l'economia circolare, che perde un po' il suo valore. Quando hai scelto di scrivere un altro calcio ancora possibile? L'espirazione mi è venuta in una situazione particolare molto precisa, devo dire la verità. Un episodio che molti avete visto recente, quello che si riferisce a Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, che in occasione della partita che valza la promozione in Serie A del Cagliari, uno spareggio con il Bari, vinto l'ultimo secondo. Con Pavoletti. L'ultimo secondo, esattamente, nell'abbraccio, nella gioia, nella commozione per questa promozione, Ranieri ha ascoltato un coro, un coro dei tifosi cagliaritani in netta minoranza rispetto a quelli baresi, che però insultava, insultava i tifosi del Bari, Serie B, Serie B gridavano. Si è ribellato Ranieri, è corso verso la sua curva, ha gridato a gran voce, mimando un no con le braccia, è un grande insegnamento di cultura sportiva, ha detto a quei suoi tifosi dobbiamo rispettare l'avversario, che non è un nemico, soprattutto quando perde. E lì ho pensato, ecco la chiave, il calcio è questo, non è quello della violenza, non è quello del razzismo, non è quello della xenofobia, non è quello dei troppi soldi che hanno in qualche modo coperto i sentimenti. Tu hai vissuto tanti anni di calcio attraverso tutto il calcio, minuto per minuto, hai vissuto la sua evoluzione, la sua storia, e come l'hai percepita questa evoluzione del calcio? Perché tu effettivamente parli di un altro calcio che è esistito e che dal mio punto di vista si è un po' smarrito. Hai avuto anche tu questa percezione negli anni? Ma il libro è una sorta di grido di dolore di un appassionato di calcio. Però nel sottotitolo è ancora possibile, senza punto interrogativo, perché c'è stata una discussione con l'editore, se mettere o no il punto interrogativo. Io ho voluto cancellare il punto interrogativo perché sono convinto, ho la convinzione che il calcio possa ancora salvarsi, posso cioè non smarrire la sua identità, ad una condizione però che capisca in modo definitivo che tutto il business, che tutto il circo del calcio si basa su una sola cosa, sul sentimento dei tifosi. Senza quel sentimento non ci sarebbe neanche il business, quindi io credo che quel sentimento vada rispettato, insieme al sentimento vanno rispettati i valori. E poi è anche uno dei passaggi essenziali del libro, come se il tifoso fosse messo al centro del calcio, un tifoso che sembra essere diventato più cliente rispetto al tifoso in sé. C'è una possibilità di tornare indietro? Tu lo dici, non metti il punto interrogativo. Io però ti racconto un'esperienza da scettico. Io vedo i soldi in Arabia, vedo stadi in cui si tende a dire alla gente non ti fate, non bisogna tifare. È un po' di scetticismo, ce l'ho. Tu sei veramente così speranzoso? Ma credo che sia necessario, credo che sia indispensabile, direi obbligatorio. Perché se il calcio continua ad essere semplicemente quella macchina mangiasoldi vorace e non riflette sul fatto che se si perdono i soldi perché sono investiti male, se i rossi di bilancio sono in qualche modo anche il risultato negativo sul campo, e se si cerca anziché di ridimensionarsi e di abbassare l'asticella, di cercare altro denaro, io credo che il calcio non avrà un futuro. O per la meno non avrà un futuro nell'ambito sportivo. È grande rischio che il calcio smarrisca la sua identità di sport per arrivare poi alla fine dove? A prodare in quello che è il limbo dello spettacolo puro a beneficio delle sole televisioni. Però vorrei dire, a quel punto sarebbe quasi un wrestling con tutto il grande rispetto nei confronti di questi straordinari professionisti del wrestling che però fingono, sono attori. Vogliamo un calcio solo spettacolo o un calcio che sia sport capace di fare spettacolo. L'Arabia sta un po' rovinando il calcio, secondo te? Ma non è tanto un problema di Arabia che rovina il calcio. È un problema di calcio che si vende in cambio dei soldi. E cosa vende? Vende sostanzialmente la sua identità. Sai, andare a giocare in mondiale in Qatar è stato un grandissimo errore. Con grande rispetto per i catarioti con grande rispetto per tutti gli appassionati di calcio in Qatar. È stato un grande errore perché si è voluto in qualche modo dimenticare che quel mondiale è stato anche il mondiale che ha in qualche modo evidenziato come i diritti umani possano essere calpestati. Lo sapete. Migliaia di vittime per realizzare quegli stadi. Documentate. Il Guardian ha fatto inchieste straordinarie da questo punto di vista. Noi ci siamo disinteressati di tutto questo e siamo andati a giocarlo. Lo stesso meccanismo si sta applicando con l'Arabia saldita. Soldi in cambio di che cosa? Silenzio. Sport washing. Polvere sotto il tappeto. Non discutiamo dei diritti umani che vengono costantemente violati nell'Arabia saldita. Andiamo a giocare lo stesso lì. Ecco, in questo momento il calcio in questo modo il calcio tradisce se stesso. Perché non può esistere sport senza valori. Non può esistere sport che non sia capace di immettere messaggi di valore. Questo che dici lo vediamo anche però con l'acquisizione da parte di alcune società catariote, arabe di varie squadre. Bin Salmane, il Newcastle, Mansour, Al-Kelife, insomma. Però tutto questo passa sotto la coltre calcistica. Ieri il Newcastle-Dortmund finita 0-1 ha visto una piccola protesta da parte dei tifosi del Borussia Dortmund contro però appunto l'acquisizione del Newcastle e lo sport washing. Sport washing. Esatto. Però a tutti gli effetti diventa capillare. Sai, il calcio, lo sport, in calcio in particolare perché è lo sport più popolare quindi è anche un grande strumento di propaganda da questo punto di vista, ha dovuto combattere nella sua ultra centocinquantenaria storia sono 166 gli anni di vita del calcio prendo come data d'inizio la fondazione del primo club di calcio o Sheffield esattamente, in Inghilterra. Ebbene, in questi 166 anni il calcio ha dovuto combattere per la propria indipendenza. È stato sfruttato dai regimi fascista, nazista, dai regimi d'oltre cortina durante l'epoca dell'Unione Sovietica perché la politica capiva la grande capacità di propaganda insita in uno sport che approfonde i radici popolari. Oggi forse da questo punto di vista il calcio non deve più battersi per fortuna contro dittature sanguinarie almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Però deve battersi contro chi? Contro il potere economico che cerca appunto di qualche modo di sfruttarlo. Di sfruttare la nostra passione il potere economico di sfruttare la nostra passione per fare affari e soprattutto per cancellare l'umanità della difesa dei diritti umani che non è politica. Difendere i diritti umani non è politica. Vendersi alla grande finanza credo che potrebbe essere davvero molto grave per il calcio e potrebbe in qualche modo anche sancire la sua fine come sport. Dici? Proprio... Non ho detto su questo. Nel libro faccio alcuni esempi di calcio possibile e per esempio cito la storia straordinaria di una società tedesca che si chiama San Paoli è la seconda squadra di Hamburgo che ha disputato anche parecchi campionati in Bundesliga e che è una società che vive dagli primi anni del Novecento con azionariato popolare. Non c'è un padrone. Anzi, chi diventa socio della squadra e della società ha anche l'obbligo di portare avanti attività in qualche modo di valore sociale. Il calcio è un fenomeno sociale non può dimenticare la sua origine fondamentalmente. C'è anche una squadra di Manchester che se non sbaglio è lo stesso principio. In Spagna ci sono molti di squadra che vivono sull'azionariato popolare. E ne pensi dell'azionariato popolare in Italia? Non è mai esistito un fenomeno di questo tipo. Potrebbe funzionare? Qualcuno ha provato a promuoverlo ma in qualche misura è stato rispinto diciamo così. Speriamo che qualcosa possa nascere all'orizzonte. Ci sono tanti esempi nel mondo del calcio che dimostrano come si può prendere un'altra strada senza diventare schiavi della grande finanza ma secondo te potrebbe essere la soluzione per riportare i tifosi italiani a riaffezionarsi al calcio? Ma io credo che gli appassionati siano ancora affezionati al calcio però credo che ci sia anche una sorta di evidente come dire un evidente distacco si incrina il rapporto progressivamente tra i tifosi e il calcio avete visto probabilmente lo striscione esposto durante il Milan e il Juventus dai tifosi del Milan che invocavano un'attenzione ad abbassare i prezzi oggi per vedere il calcio bisogna essere ricchi prezzi troppo alti 40 euro nei settori popolari dai 40 ai 70 euro nei settori popolari abbonamenti multipli per poter vedere tutto a piattaforme televisive molto costose io mi domando quante famiglie sono in grado di leggere l'urto economico invertibile secondo te perché mi accorgo proprio che ci sono dei prezzi molto alti però non ho la percezione che il trend dei prezzi possa essere cambiato nel senso che non c'è in questo momento un cambiamento anzi al contrario si va verso l'innalzamento dei prezzi allora io sono assolutamente critico nei confronti di quell'affermazione che Cefer in presidente dell'UEFA fece qualche tempo fa in occasione della polemica intorno alla Superlega il calcio del popolo no il calcio non è del popolo il calcio è dei proprietari delle società di calcio molto spesso fondi di investimento americani oppure shake arabi ma il calcio ha una grande e profonda radice popolare che ne ha fatto la fortuna se questa radice popolare fosse sirpata a favore di un'elite benestante e questa radice popolare questo grande elemento di cultura popolare fosse marginato dal calcio io credo che il calcio perderebbe la sua identità ci sono tante storie che ho visto adesso sfogliando un po' un altro calcio ancora possibile ti ringrazio per la gentile concessione ho letto Nelson Mandela Sadio Manet qual è una delle storie che è stata più bella da raccontare e quella invece più difficile da raccontare per te una delle più belle credo che sia quella di Manet Manet giocatore che tutti conoscete naturalmente che è soprattutto oltre che un grande campione un uomo che non ha dimenticato le sue origini africane e gran parte dei suoi guadagni vengono dirottati nel suo villaggio nella sua piccola cittadina ha costruito ospedali ha realizzato una rete internet perché i bambini delle scuole potessero utilizzare i computer va in giro con un telefono rotto con il telefono cellulare con il vetro rotto e con un modestissimo orologio al polso e quando qualcuno domanda a Manet ma perché lui risponde cosa sarebbe la mia vita con una Ferrari o due Ferrari in più a cosa serve tutto questo se non a restituire a chi mi ha consentito di fare quello che sto facendo in qualche modo alimentando anche le speranze non ha dimenticato che correva su un campo in terra battuta a piedi nudi e da lì è nato il calciatore che è Manet quindi una grande storia umana mi sono venuti i brividi sai mi è venuta la pelle d'oca veramente e la più difficile invece da scrivere ma la più difficile è stata in qualche modo confrontare quello che diceva Mandela in un'epoca straordinaria che alla fine in qualche modo è sfociata nel grande mondiale del 2010 si è giocato un mondiale in Sudafrica storico che in qualche modo di evitare le contrapposizioni di ridurre i contrasti di eliminare le ingiustizie è stato difficile prendere spunto dalle sue parole e poi verificare quello che è successo in questi anni ecco e raccontare che purtroppo non è stato così e che il calcio molto spesso lo sport ha dovuto piegare la testa ai potenti è stato secondo me forse uno dei momenti più difficili cosa pensi possa donare a chi ama il calcio e non solo il tuo libro ma sai la copertina mi piace molto e sono grato ai grafici di People per averli ideata lo vedete c'è una piazza un'ipotetica piazza di una qualunque città italiana dove ci sono dei bambini che giocano a pallone tra l'altro c'è anche una bambina insieme ai bambini perché parlo molto anche del calcio femminile e di cosa significa soprattutto in questa fase storica che viviamo ecco io credo che quella fotografia di qualcosa che non c'è più io non vedo più i bambini giocare per strada nelle nostre città vedo tanti bambini invece che vanno nelle scuole calcio campi in erba che noi piccoli mai ci saremmo sognati io da ragazzino giocavo nel campo in terra della parrocchia unica possibilità che avevo io credo che però questi bambini non siano felici come eravamo noi noi ci divertivamo a giocare per strada ci divertivamo a giocare sui campi in terra ci producevamo in dribblighi immaginari a volte reali sognavamo a corsa verso la porta ci interessava poco l'aspetto tattico oggi ho l'impressione che questi ragazzini non siano più liberi di divertirsi non siano più liberi di inventare una giocata e siano invece troppo spesso obbligati a difendere il loro piccolo pezzo di campo perché la tattica ha superato per importanza la tecnica ma temo anche che tutto questo significhi che i bambini non si divertono più e se i bambini non si divertono a giocare a calcio non si divertiranno neanche quando saranno grandi e questo secondo me è un grande male e questa secondo te è la causa principale del fatto che non ci sono più Totti del Piero Baggio credo che sia una di queste ragioni l'altro giorno mi sono trovato in una situazione strana personale camminando in una strada di Roma che conoscevo dove avevo giocato a pallone ho visto un cartello vietato a giocare a calcio incredibile e mi sono sentito veramente defraudato di un diritto tra virgolette io credo che se oggi abbiamo una crisi tecnica una crisi di talenti nel calcio italiano una delle ragioni probabilmente anche questa io credo che sappiate tutti che Boninsegna Riva Baggio Del Piero Vialli sono nati giocando in parrocchio o giocando per strada perché è lì che si impara il controllo del pallone che ci si diverte a palleggiare per ore ci si sfida con gli altri per essere più bravi tecnicamente io credo che ci sia bisogno come avviene peraltro in Spagna di consentire ai bambini maggiore libertà di espressione perché il calcio è anche espressione soprattutto espressione della propria personalità assolutamente sì chiudiamo per il momento la parentesi di un altro calcio ancora possibile la riprendiamo alla fine mi prendo dieci minuti per parlare un po' di te della tua straordinaria carriera da giornalista sportiva radio cronista regia quando vuoi lanciamo l'audio lo sentiamo a tutto studio prego la palla sulla destra è Snyder chiuso però dal difensore della formazione perugina Materazzi rivordino mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000 la Lazio è campione d'Italia 1999 Collina l'invento è stata battuta a Perugia per 1 a 0 dalla squadra di Canetto Massone livello l'Olettico e allora forse è proprio capito questa O che tu dici è campione d'Italia si è strozzata in gola si sente qualcuno maggiormente sensibile o attento avrebbe capito forse in quel momento preciso cosa succedesse nel mio cuore nel mio animo io per 40 anni ho risposto a chi mi chiedeva quale fosse la squadra del mio cuore se ce n'è una lo saprete soltanto quando avrò appeso il microfono al chiodo e così ho fatto per rispettare la passione di tutti ma io sono laziale ma quando ero bambino io ho vissuto lo scudetto del 74 in curva nord all'Olimpico con la voce di Enrico Ameri e la radio collata alle orecchie che gridava campioni d'Italia ho sognato in quel momento che bello mi sono detto che bello sarebbe fare il mestiero di Ameri e magari riuscire anche a dire una volta Lazio campione d'Italia beh aver centrato in entrambi gli obiettivi qualcosa che ancora mi provoca brividi lungo la schiena io sono laziale ho vissuto lo scudetto della Lazio da radiocronista dopo averlo vissuto da tifoso in curva ti faccio un altro regalo regia mandiamo il video prego Filippo consentimi di usare il microfono di tutto il calcio per un saluto questa è stata la mia ultima radiocronaca tutto il calcio ormai come sappiamo tutti 57 anni ma è una trasmissione ancora giovane giovane e bella vorrei dire e durerà a lungo almeno finché esisterà la passione nostra e vostra per il calcio grazie alla RAI grazie davvero alla RAI per le opportunità che mi sono state concesse alla straordinaria redazione sportiva di RAI 1 ma soprattutto a voi a voi che avete scelto e che scegliete di ascoltarci grazie a te Filippo cedo a te la linea ancora una volta naturalmente e questa volta posso dirlo è davvero tutto a te Consini quando hai visto quello striscione ma sai io mi sono preparato per tutti questi 40 anni al momento in cui mi sarebbe evidentemente toccato l'addio perché ero talmente innamorato del mio mestiere che ho sognato da bambino ho sognato da bambino ascoltando le voci di Ameri e Ciotti alla radio la domenica richiuso nella mia stanzetta che ho cercato proprio nel momento in cui inevitabilmente il dato anagrafico mi impose di lasciare il microfono mi sono imposto di non caricare le mie emozioni scaricarle per meglio dire sulle spalle dei radioascoltatori che non avevano alcuna colpa c'era quasi riuscito intanto che la curva a nord dell'Inter non tira fuori quello striscione straordinario e a quel punto come avete visto anche voi dalle immagini il nodo in gola mi è avvenuto non mi sarei mai aspettato che la curva che è una curva è molto difficile il rapporto tra i giornalisti e le curve lo sappiamo è giusto che ci critichino per quello che facciamo quindi il rapporto è complicato però l'omaggio della curva a nord dell'Inter è qualcosa che non mi aspettavo ed è qualcosa che ancora oggi mi attraverso i sogni durante la notte non finirò mai di ringraziare la curva a nord dell'Inter per quello striscione che era legato anche ad un preciso momento il racconto dei due gol di Milito in occasione della finale di Champions League a Madrid che portò evidentemente l'Inter sul tetto d'Europa e di quello loro evidentemente erano un bel ricordo inevitabilmente ma ci fu anche un omaggio complessivamente ma non soltanto a me all'umanità della radio all'umanità dei radiocronisti che io credo ancora oggi in tempi ormai di dominio della televisione sia ancora percepito fortemente dai tifosi del calcio che ci sentono più vicini a loro di quanto non possa essere un telecronista sentirsi vicini attraverso la radio noi abbiamo trovato un filmato di repertorio di una videocassetta che ripercorre quel 14 maggio del 2000 ma visto dagli spalti quando in quel momento tu non lo sapevi la tua voce riecheggiava per tutto lo Stadio Olimpico un minuto circa di emozioni con Riccardo Cucchi che racconta Perugia-Juventus ai laziali presenti allo Stadio Olimpico il film nel mondo del mondo del mondo che si ripera l'entipo in un'attività non c'è ma cosa non c'è la sua voce non c'è la sua voce la sua voce la sua voce un'attività e poi il rigeo poi più grande da Capoli ma qua viene in l'intipo l'Akkers e il centro di Giacomo il volo è portato che sempre esco una cosa vuole stare che sta che sta Grazie a tutti. Io ho saputo tornando a casa naturalmente di quello che era successo all'Olimpico grazie al racconto di mio figlio Francesco, io ero a Perugia non potevo immaginare che la mia voce fosse stata diffusa all'interno dello stadio mio figlio era in mezzo al campo, aveva già invaso e superato la tribuna laziale anche lui, ma la cosa divertente, mi permettimi questo dettaglio privato io ho una moglie romanista, due figli, uno laziale e uno romanista quindi immagina che il tipo di atmosfera si respirava a casa durante il derby ma vedi, gente che piange, gente che si abbraccia torniamo al punto di partenza, il calcio è sentimento, non possiamo dimenticarlo Tu non lo sapevi, ma io non posso immaginare, tu quando ti hanno detto guarda che 70.000 persone all'Olimpico hanno ascoltato la tua voce tu ti rendi conto che il tuo nome sarà per sempre associato alla scuola del tuo cuore Ma sai che mi capita ancora oggi, mi fa molto piacere tra l'altro io sono tornato allo stadio da quando ho smesso di lavorare e sono tornato da dove ero partito ero in curva nel 74 poi ho fatto tanti anni di radio in tribuna sono tornato in curva io sono un curvaiolo della Lazio con tanto di sciarpa al collo ed è divertente naturalmente ogni domenica quando arrivo c'è qualcuno che si avvicina e tutti o quasi mi piazzano il telefono in faccia e mi dicono Acu, ridiccelo e io devo ripetere sono 18 e 4 minuti la Lazio è campionata che bello tra l'altro io ti ho visto spesso insomma andando a vedere la Lazio con la tua sciarpa e tutto quanto ma non ti stanchi mai di dire sono le 18 e 4 minuti? no per me è una gioia ho un piccolo rammarico quando mi si avvicina un signore magari con il figlio piccolo nato dopo il 2000 e io dico però questa ragazza avrebbe il diritto anche lui di gioire io ho gioito due volte da tifoso e da radiocronista anche se non l'ho manifestato in quel momento e questi bambini non l'hanno sentito ancora questa frase forse sarebbe anche il momento che ci fosse un altro radiocronista che potesse dire ve lo auguro per i tifosi della Lazio e per me stesso Lazio, campione d'Italia spero che succeda prima o poi comunque una curiosità proprio al volo sulla Lazio è un periodo un po' particolare per la Lazio ha vinto due volte in campionato ieri mi sfatta col fei Leonardo Sarri ha detto siamo con l'acqua alla gula che ne pensi? ma io credo che la Lazio abbia in qualche modo preso l'immagine del suo giocatore più rappresentativo in qualche modo lo stia imitando è pazza come Luis Alberto che è capace di giocate straordinarie emozionanti, incredibili ma anche di strani rallentamenti e abbassamenti di tensione è una squadra strana è una squadra strana perché ha giocato partite straordinarie contro l'Atalanta contro il Sassuolo ha giocato con grande gritte in altre occasioni poi ci sono quei momenti che è successo anche contro Feyenoord in cui la tensione cala e la squadra si spegne, si smarrisce non riesce più a fare quello che sa fare perché secondo te fa così? colpa dell'allenatore, dei giocatori? no, credo che sia un problema di personalità la Lazio diciamo che nella sua storia è stata sempre una squadra un po' strana a corrente alternata tranne una che aveva in campo quella grinta che serve per vincere ed era quella di Giorgio Chinaglia ma perché c'era Giorgio Chinaglia? uno che non si arrendeva mai Long John per dirla ai nostri ascoltatori il grande esempio del 74 di quella Lazio divisa in due in chiusura tornando a un altro calcio ancora possibile il tempo purtroppo vola veramente cosa pensi possa regalare questo libro alle future generazioni che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio? ma soprattutto una riflessione perché c'è un piccolo accenno al percorso storico del calcio com'è nato? perché è nato? cos'è successo? quanti eroi in qualche misura hanno contribuito a scrivere questa storia? e soprattutto a sognare a sognare un calcio che sia a dimensione d'uomo e non a dimensione di petrol dollari perché credo che sia tutta qui la grande differenza quindi un invito a chi leggerà il libro soprattutto se sono giovani a divertirsi giocando a pallone e chiedere con grande forza anche ai loro bignamini di essere in qualche modo trascinanti anche a livello di messaggi il calciatore è un esempio il calciatore è un esempio per i più piccoli non lo dimentichi mai io sono molto arrabbiato con i calciatori coinvolti nell'ultimo fenomeno delle scommesse molto arrabbiati perché soprattutto è chiaro che anche in questo caso ad essere traditi sono stati i tifosi con la loro passione con i loro sentimenti che ne pensi? guarda proprio in chiusura della loro condotta tonali, fagioli, la squalifica è giusta in questi termini o proprio ci dovrebbero essere altre soluzioni? no io vorrei essere molto più severo con questi ragazzi ve lo dico con molta franchezza perché quando si arriva a giocare a quei livelli si corona un sogno dotati di buona tecnica come sono tutti i calciatori che arrivano in Serie A beh sia tutto sia tutto sia ricchezza sia popolarità sia amore da parte della gente beh io credo che non sia possibile un comportamento del genere può fare tutto un calciatore può fare mille cose solo una gli è proibita scommettere sul calcio non credo che sia un grande sacrificio evitare le scommesse sul calcio chiarissimo Riccardo Cucchi un altro calcio ancora possibile ecco ve lo mostriamo qua e attraverso la nostra grafica preparata dalla post-produzione io ti ringrazio non a nome del collega ma a nome del bambino che ha sognato con la tua voce e che con la tua voce ha respirato calcio per me questo è un momento di grande emozione quindi ti ringrazio davvero di cuore dovremmo tutti rimanere bambini per vivere bene il calcio hai ragione ma penso proprio che tu abbia veramente tanta ragione Riccardo Cucchi grazie mille grazie a te e complimenti ora adesso noi andiamo in pausa poi rientriamo con l'ultimo giro le interviste in esclusiva dello staff di Ballando con le stelle e poi andiamo a chiudere insomma questa puntata di pomeriggio con noi state qua grazie a te grazie a te